E' inconcepibile quello che sta succedendo all'interno della Regi Multiservice, una società al 100% della provincia di Salerno. Oggi, mentre a livello nazionale si discute di dare più soldi ai lavoratori, attraverso il cosiddetto cuneo fiscal, qui vengono tolte ai lavoratori 135 euro al mese. A 147 famiglie, la stragrande maggioranza di questi monoredditi, dove mettiamo in difficoltà l'economia di 147 famiglie. Ma la cosa più inconcepibile è che la spending review, che dovrebbe valere a livello nazionale, è stata applicata solo a Salerno. L'unica società mista tra le migliaia e migliaia che ci sono all'interno della nostra nazione, solo Salerno, ha preso questa iniziativa unilaterale di reclutare gli stipendi ai lavoratori. Noi siamo qui per lottare per i diritti, perché gli aumenti salariali non ce li ha regalati nessuno, ce li ha regalati la professionalità e il modo di operare di questi lavoratori, che tutti i giorni si conquistano il loro diritto al lavoro. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti